Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il calcio, siamo agli sgoccioli ormai del campionato di Serie C, che certamente non ha soddisfatto la dirigenza della Lucchese. Ai microfoni di Noi TV l'amministratore delegato Reilo Faso, però rilancia le ambizioni della società per il futuro. Sentiamo cosa promette ai tifosi in vista della prossima stagione. Guardi, io mi sento di promettere personalmente quello che ho fatto durante tutta questa stagione, il massimo impegno, la massima attenzione e il fatto di tenere il club e la società ordinata sui conti, ordinata da un punto di vista bilancistico e sana. Per quanto riguarda le aspettative sportive, ha già espresso la sua posizione più volte il presidente, vuole fare un campionato importante, un campionato di vertice e sicuramente ci attrezzeremo per farlo. Sapendo bene che ci sono anche gli altri, la competizione è molto elevata, ci contrapponiamo con piazze che hanno meno problemi di quelli che abbiamo noi, ma questa cosa non ci spaventa. E' chiaro che in questo percorso ci farebbe piacere avere l'aiuto, l'affetto e anche la vicinanza della città e dei nostri tifosi, perché questo tipo di attività si fa spinti anche da un'onda emotiva e se questa dovesse venire meno sarebbe un problema. L'intervista integrale con Reilo Faso nel corso della puntata di questa settimana di Curva Ovest. Nella penultima giornata del campionato la formazione juniores della Lucchese di Mister Cordeschi ha strapazzato l'Academy Livorno con un perentorio 7-0. Grande prestazione di Iris Galo che ha messo a segno una tripletta, ma poi, e si è infortunata, ha dovuto lasciare il campo. Bene anche l'area Orsi, autrice di due marcature, a fine gara poca voglia di festeggiare per Mister Cordeschi, proprio rammaricato per l'infortunio della Galo. Parliamo anche di calcio a 5 in una palestra fermi gremita. Il Fuzza Lucchese non fallisce il secondo match point e grazie al successo per 5-0 contro l'Elba 97 conquista la promozione in Serie C1. Primo tempo si era concluso sullo 0-0, poi Guadagnuccio ha portato in vantaggio il Fuzza Lucchese. I Rossoneri hanno trovato il gol del raddoppio che stiamo per vedere con Capitan Angilletta che poi ha segnato anche il terzo gol e a quel punto la partita non ha più avuto storia. Dunque il Fuzza Lucchese vince il girone A di Serie C2 e conquista la storica promozione nella categoria superiore. Siamo al tennis, ci sono belle notizie che arrivano dal torneo WTI 500 di Stoccarda dove Jasmine Paolini con una grande prova ha battuto la tunisina Hans Javert, numero 9 al mondo, 7-6-6-4, il punteggio con cui la 28enne tenista lucchese ha liquidato. Ricordiamo una delle prime dieci giocatrici del ranking mondiale. E ci sono buone notizie anche per Niccolò Baroni, giovane tenista a Via Reggino che accede alle prequalificazioni degli internazionali al Foro Talico di Roma. Tenista a Via Reggino ha guadagnato questo diritto vincendo il torneo di San Benedetto del Tronto dove in finale ha battuto Di Nicola con un perentorio 6-2-6-3. E siamo alla palla a volo, un altro fine settimana davvero interessante per le nostre squadre. il Versilia Pietrasanta difende il primo posto nella B2. Ritrova l'abbraccio amico del palagreco il Versilia Pietrasanta Canniccia Motor Club che nella ventitresima giornata di B2 ospiterà sabato ore 18 la M.G. Calenzano. Dopo l'ultima sofferta vittoria a Fossato, le versilesi dovranno cambiare il ritmo di gioco nonostante le assenze continuino a penalizzare la squadra di coach Stefanini. Servirà infatti vedere in campo un'altra squadra per piegare la compagine fiorentina. Le bianco-azzure versilesi si presentano alla sfida in un'opposizione inimmaginabile ad inizio campionato in vetta al girone G con 7 punti di vantaggio sulla zona playoff. Ricordiamo che solo le prime due passano alla fase successiva. A quattro giornate dal termine la prestigiosa posizione impone al Versilia di non commettere passi falsi per cercare di realizzare un sogno che pareva impossibile e ora quasi realtà. Il rush finale della regular season passa sabato dal palagreco con la prima occasione per assicurarsi già un biglietto per i playoff. Occhio infatti al risultato dello IUS Arezzo, terzo e distanziato di 7 punti, impegnato poi domenica nel derby contro l'OMA Cattipo. Il Versilia Pietrasanta potrebbe infatti avere la certezza matematica della qualificazione nel caso che tra le due squadre si creasse un divario di 9 punti, cosa che potenzialmente in caso di sconfitta delle aretine e di un successo bianco-azzurro potrebbe avvenire già in questo weekend e con ben tre giornate di anticipo. Passiamo al basket dove ha ben altri problemi il BAM Alto Pascio che inizia nel fine settimana il primo play-out, almeno speriamo sia il primo, per conquistare la salvezza e rimanere in Serie C. La penalizzazione di tre punti inflitte a Cuspise e Bottegone per ritardato pagamento delle tasse federali cambia lo scenario e gli abbinamenti dei play-out di Serie C di basket. Di conseguenza muta anche l'avversario del BAM Alto Pascio, non più il Monsummano, bensì il Bottegone Pistoia. Meglio, peggio, chissà. Sarà la Serie al meglio delle cinque partite a stabilirlo. Uno spareggio che non nasce sotto i migliori ospici per i rosa-blu di Coach Traversi, visto che l'infortunio occorso al forte e valoroso Bini e Nabulele si è confermato piuttosto serio. Stagione finita per il capitano Alto Pascese, assenza pesante cui far fronte nell'economia di una salvezza tutt'altro che agevole da conquistare. Dopo un campionato sofferto, anche sfortunato per i ridondanti infortuni, ma indiscutibilmente inferiore alle attese, in casa Rosa Blu si spera di risolvere la questione salvezza già nel primo confronto con il Valentina Sbottegone Basket Pistoia. Dicono i bene informati che rispetto al Monsummano il Bama non ci abbia guadagnato, visto che quella pistoiese è franchigia più solida sul piano fisico rispetto ai cugini monsummanesi. Noi riteniamo che si tratta pur sempre di squadre che qualche problema ce l'hanno se sono arrivate a questo punto. Si gioca al meglio delle cinque partite, quindi chi vince va alla successiva odissea sotto canestro, mentre chi perde retrocede. Il Bama avrà il vantaggio dell'eventuale fattore campo in gara 5. La serie prevede subito due partite in casa per il Rosa Blu, domenica 21 aprile ore 18 e giovedì 25 alle 21. Ecco, portarsi su un franco e robusto 2-0 non sarebbe male anche se non sarà semplice. Seguiranno poi gara 3 e gara 4 a Pistoia, domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio. Eventuale bella al Palapertini di Ponte Bugianese, domenica 5 maggio. Il pugilato, l'ex campione italiano del Piesigallo Claudio Grande, disputerà il suo primo match del 2024, domenica al Palasport di Massa, guidato all'angolo dai maestri Paolo Gassani e Giancarlo Talamoni, se la vedrà contro il colombiano Inca e Sedo. Il match si disputerà sulla distanza delle sei riprese, naturalmente il primo passo per Grande per cercare di riconquistare la cintura tricolore. E mentre ci si accinge a vivere i play-off del campionato di Hockey su pista, si assegnano anche gli Oscar della regular season. La lunga ed appassionante stagione regolare 2023-2024 di Hockey su pista ha dato i suoi verdetti. Il centro Porsche Firenze Hockey Forte ha preso il posto dell'attrissino, che si ferma a due vittorie consecutive, sconfitta per un solo punto da imbattuta. Federico Ambrosio del centro Porsche Firenze Hockey Forte la stecca d'oro 2023-2024, sommando già quelle del 2018-19 e 2020-21. 47 le reti contro le 40 della prima e 44 della seconda, confermandosi ai massimi livelli, con tanto anche della sua media gol di due. Al secondo posto Giulio Cocco del Trissino, 38 reti, dal terzo Davide Banini del Follonica con 33. Giulio Cocco del Trissino si conferma il giocatore più performante della Serie 1 per il secondo anno consecutivo, con il punteggio di più 57 di plus-minus. Al secondo posto, a pari merito, Davide Gaviori del Trissino e Federico Ambrosio del Forte dei Marmi con 52. Stefano Zampoli del Trissino è il miglior portiere della stagione regolare 2023-2024, seguito da Riccardo Gnata del Forte e Leonardo Barozzi del Follonica. Pablo Naggera del Lodi è il miglior assistman nel 2023-2024 con 18 assist. A 17, Xavi Rubio del Vercelli, poi passata al Giovinazzo. Joaquin Olmos della Sarzana è il miglior under-23. Il miglior marcatore under-23 è stato Giuliano Giuliani del Valdagno, con 24 reti seguito dalle 22 di Banini e 21 di Olmos. Il miglior realizzatore su tiri diretti è stato Francesco Banini del Follonica, con tre realizzazioni su tre, ma il giocatore con più tiri diretti e con la migliore percentuale realizzativa è il fratello Davide Banini. Il miglior realizzatore su tiri di rigore è Mattia Cocco del Bleganze. Il miglior portiere su tiri diretti è stato Adria Català del Grosseto, seguito da Valenti, Grimal e Gnata. Il miglior portiere su rigori è Leonardo Barozzi del Follonica, con sette rigori parati e la media dell'88%. Intanto si sono giocate le gare di andata dei preliminari play-off di A1, Sandrigo-Valdagno 2-3, Bassano-Montebello 7-1, sabato sera le gare di ritorno. Chiudiamo con una notizia di danza acrobatica. La scuola acrobatica di Viareggio, con le coreografie della coach Rossella Ricci, ha ottenuto buoni risultati nella manifestazione di pole dance svoltasi ad asti. Idli Zaghi, della categoria Master Over 60, ha vinto la medaglia d'oro. Consuelo del Pistoia, Bronzo, così come la compagna di squadra Rossella Ricci, hanno partecipato alla competizione atlete provenienti da 48 paesi di tutto il mondo. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il TG prosegue con gli altri spazi dell'informazione. Grazie a tutti.